Porta Aperte sul Web è una comunità di pratica promossa dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia e abitata da docenti, personale amministrativo, dirigenti, DSA, genitori e appassionati appartenenti a tutte le regioni italiane. Abbiamo prodotto dei modelli di sito scolastico accessibili a norma con Drupal, Joomla, Plone, Wordpress e Decentosette. Sono tutti liberamente utilizzabili dalle scuole, corredate da guide e rilasciate con licenze e credit commons. Sono numerevoli gli ambienti di confronto e di deposito di materiali, tra questo abbiamo il nostro canale YouTube con 80 e più video tutorial a supporto delle guide e una serie di filmati relative alle nostre giornate aperte con la partecipazione di esperti del settore. In più abbiamo la mailing list su Yahoo con oltre 300 messaggi di media al mese. Abbiamo una mappa interattiva dove le scuole possono ritrovare altri istituti scolastici che usano lo stesso CMS vicino a casa e quindi la possibilità di confronti più immediati. Abbiamo uno spazio wiki di scrittura collaborativa legato soprattutto all'applicazione nelle scuole della normativa, in questo caso obiettivi di accessibilità e applicazione del decreto legislativo 33. Sono stati gli ultimi argomenti trattati e poi delle realizzazioni specifiche. Con Drupal e Wordpress abbiamo ormai attivi il servizio di presa visione delle circolari online, una spinta verso una dematerializzazione più completa sulla scia di quanto realizzato nel sottocomprensivo di Castellucco in provincia di Mantova e poi realizzazioni che sono poi spalmate nei vari CMS, in particolare il modulo Indrupal e il plugin Wordpress sull'amministrazione trasparente facile da utilizzare, le varie realizzazioni dell'album online nei vari CMS con rispetto del Vademecum del 2011 e delle personalizzazioni poi dei vari modelli che vediamo sia in Plone che in Joomla dei modelli che noi abbiamo realizzato. Poi abbiamo anche gli ambienti di confronto di tipo più social, in particolare abbiamo attivato due gruppi su Facebook, uno è il gruppo siti scolastici attivato a giugno con confronti quotidiani, un altro ancora a giugno sulla scrittura per il web a scuola e nella pubblica amministrazione con attenzione in particolare alla stesura e redazione di micro contenuti efficaci di PDF accessibili e poi l'ambiente social realizzato con Bodypress con forum, chat e la possibilità di depositare materiali che possono essere di uso comune per tutte le scuole. Tutto questo per noi è stato possibile proprio perché crediamo che insieme sia meglio, insieme sia più facile.